Una cosa che devo dire è che non sono preoccupato, sono occupato. Parlo con Riccardo ogni giorno per essere sicuro che stiamo cercando uno o un altro e il contatto con lui e con la sua gente permanente non è un problema e so che lavoriamo, so che lavoriamo forte perché non è un mercato facile. Abbiamo fatto Giorginio, abbiamo fatto Andujar come una possibilità per il futuro. Questo significa che abbiamo questa visione presente e del futuro ma ancora continuiamo lavorando per trovare qualcuno. Devo dire che sono in contatto con il Presidente, sono in contatto con Riccardo e sappiamo che cosa vogliamo ma non è facile trovare questi giocatori del livello del Napoli oggi. Sembra difficile agire, ma troviamo e sicuro qualcosa possiamo fare.